... ... ... ... ... ... ... Sì. Sì, che stai qui, Godinez? 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 Sì... Sì, che stai qui, Petri, qui viene la mia intro. due volte lo agaviamo con il dinero perché non subono con la maletta? a vedere, che non si presten a questo è una maletta è un'arma qual'è? qual'è la revisione? qual'è la revisione? qual'è la revisione? grazie a qui Godinez non è vero 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 cosa cosa può poi avere? non è vero non ci sono cosa parlare? non la ragionanza non ci sono che stifo sento farci sono Grazie.